Posso passare la parola a Dottor Caviglia, segretario generale da carne di commercio, che è un'istituzione con cui vedo che con MSC sono anni che riusciamo a fare delle cose. Sono ormai 5 anni che si collabora con MSC e per noi è proprio un piacere avere la possibilità con loro di appoggiare le interne altre iniziative e soprattutto tentare di creare un forte collegamento tra le attività economiche genovesi e questa grande azienda che è sempre più importante per noi. Il battezzare una nuova nave è un evento di grande importanza per la compagnia, ma è un evento fondamentale per la nostra città. Come diceva giustamente il sindaco abbiamo bisogno di notizie positive, abbiamo bisogno di riuscire a vedere nuove cose, nuove iniziative e questa è una di queste iniziative importanti. Voi capite quindi che per noi è fondamentale che MSC faccia durare questo festeggiamento più di una settimana, perché a volte determinate buone notizie tendono a scomparire in velocità e rapidamente. Quello che per noi è importante è far sì che questa città possa fruire al massimo anche turisticamente di queste leggi. E ci sono due aspetti importanti. Il primo è che il nostro territorio è veramente un territorio policentrico. Noi sentiamo parlare tanti di iniziative policentriche, ma la nostra città lo è davvero. E le iniziative che voi troverete nella vostra cartellina fanno vedere che non è solo la zona più centrale di Genova a dare una risposta a questo. E se ci siamo riusciti è solo grazie alla collaborazione che Ascome con i esercenti e i centri integrati di via hanno voluto dare a Comune e Camera di Commercio per organizzare un qualche cosa più diffuso che faccia vivere anche ai genovesi questa festa, questa festa di questa settimana particolarmente importante. Le iniziative le trovate tutte, ma una cosa che speriamo di riuscire a fare e ovviamente la potremo fare solo insieme al nostro Comune e il Sindaco sono sicuro che ci aiuterà al massimo è fare in modo di sfruttare anche il momento per far sì che la stampa e i tour operator che saranno coinvolti in questa iniziativa possono avere da parte nostra un'assistenza e un modo per poter far vedere quanto è bella la nostra città e quindi quanto può essere comunque attraente avere Genova come meta turistica e insieme abbiamo la possibilità di non dover andare a cercare noi centinaia di giornalisti o altro ma avere la fortuna che MSG porta in questa occasione delle persone che parlano di questo varo ma parlano di turismo, quindi parlano di promuovere delle destinazioni e insieme abbiamo la possibilità di valorizzare questo perché lo possiamo valorizzare? Perché abbiamo il prodotto la cosa importante è che noi abbiamo il prodotto, abbiamo una città che è sicuramente unica e particolarmente bella i nostri albergatori ci dicono una cosa che i clienti stranieri che vengono qua dicono due cose ai nostri operatori che bella città, ma come mai non lo fate sapere? e vi garantisco che sono la più bella notizia e la più brutta notizia che un imprenditore del turismo si possa in qualche modo sentire dire perché non abbiamo la speranza di poter pensare come imprenditore del turismo che le persone vengono da noi per la nostra scultura ricettiva questo è improbabile quello che conta è il prodotto il prodotto è la città di Genova e la città di Genova è una città policentrica che vive in un ampio spazio veramente ampio e vista dal mare è una cosa particolare io mi ricordo la descrizione che ha fatto Maggiani di cosa vuol dire vedere Genova e il modo in cui lui arrivando dal mare ha considerato una cosa che non è riuscita a vedere tutta Genova in unico sguardo quindi ha dovuto seguire con la testa l'estensione di questa città che poi non è grandiosa ma è grande come estensione proprio sul nostro litorale visto che questo prodotto ce l'abbiamo e tutti i soggetti stanno tentando di valorizzarlo al meglio il nostro comune per primo sfruttiamo anche questa occasione per poterlo vendere meglio grazie e adesso passo la parola a Renato Massa canto di manager in Italia di MSC buongiorno, buongiorno a tutti ringrazio i presenti il comune e la Camera di Commercio io vi dovrei parlare del VAR e di quello che succederà però dopo le parole del sindaco e della Camera di Commercio non posso esimermi da raccontare un poco questi anni parlo degli ultimi anni il rapporto di MSC Crociera e la città di Genova sono emozionato perché ricordavo che il marzo di esattamente otto anni fa nevicò in quell'occasione quindi marzo di otto anni fa qui a Genova nevicò a fine marzo presentavamo agli agenti di viaggio italiani una nuova nave che entrava nella porta MSC MSC Sinfonia ed eravamo molto emozionati all'interno della nostra azienda uno di essere a Genova e di raccontare questa splendida nave che è tuttora in flotta di 2000 passeggeri e raccontare dei progetti che avremmo fatto di quello che sarebbe accaduto e delle navi che avremmo varate nel corso degli anni bene, il bello di questa storia che ha come protagonisti due attori Genova e MSC che sono passati otto anni prima si parlava di cose belle, cose realizzate e abbiamo fatto addirittura di più di quello che avevamo raccontato vi do un po' di numeri che riguardano MSC qualche anno perché vi parliamo anche di Genova in questi anni bene, noi nel 2005 quando raccontavamo questo VAR avevamo avuto a bordo delle nostre navi poco più di 120.000 ospiti nel corso dell'anno lo scorso anno, 2012 abbiamo chiuso con oltre un milione e mezzo di ospiti a bordo delle nostre navi questo è un trend di crescita senza precedenti e Genova ha giocato un ruolo fondamentale in questa crescita un ruolo che ha segnato anche diciamo l'evoluzione del segmento croceristico in Italia e in Europa ma è nel 2005 parlare di fare il crocere d'inverno era a base di un'assurbità c'era questa parola che piace molto a tutti gli operatori del settore turistico destagionalizzare la crocea mi ricordo che proprio quell'anno cominciamo in maniera pionieristica a dire ma le crociere si possono fare si possono fare anche a novembre, a dicembre qualcuno ci dette del pazzo con una nave da 2.000 passeggeri questo inverno a dicembre del 2012 la settimana scorsa c'era una Genova che aveva due navi da 4.000 passeggeri a fare il crociere d'inverno e i passeggeri movimentati su Genova per cui Genova protagonista da poche decine di migliaia all'inizio degli anni 2000 quest'anno 2013 sfioreremmo il milione di passeggeri 950.000 e quindi il varo è un momento in cui si varo una nave inizia una storia io credo che oggi ne possiamo anche raccontarci di una storia pensando ai passati otto anni che MSC Crociere e la città di Genova hanno scritto assieme il prodotto crociere totalmente destagionalizzato Genova protagonista non come porto di scala ma come un porto della compagnia perché è così importante l'un porto? perché non è semplicemente una toccata all'interno di un itinerario ma il porto dove i clienti vengono per imbarcarsi prima della crociera e sbarcano al termine della crociera e tutti i clienti che sono in transito cioè raccolti negli altri porti hanno occasione nelle orari di scalo di visitare la città e tutte le zone di mito che sono altrettanto belle come giustamente le ricordate e quindi una storia importante di successi che vede con il varo che avremo di MSC Preziosa la prossima settimana un ulteriore tassello lei diceva facciamo durare la festa una settimana e dico facciamo durare tutto l'anno questa festa e in effetti parlando del varo l'idea meravigliosa è stata quella di non far sì che un evento tipicamente istituzionale come il varo della città fosse lasciato in passare il termine relegato agli ospiti del varo ma aperto a tutta la città e questo è stato reso possibile proprio grazie alla collaborazione con il comune e con la Camera di Comunic perché la vera novità oltre a quello che avverrà a bordo gli ospiti e vi racconterò è che un varo aperto a tutta la città che inizia nella città già oggi ieri mi facevano vedere le foto del filmato proiettato con facebook sul palazzo della regione quindi a piazza dei Ferrari noi cominceremo proprio da questa settimana con facebook e con i cittadini di Genova a giocare per avvicinarsi a questo varo e poi al Porto Antico il giorno del varo il sabato 23 ci sarà uno spettacolo straordinario qualche artista Alex e Franz di Zelling la Katia Folessia quindi la voglia di coinvolgere la città e poi in maniera itinerante attraverso i CIV ci saranno spettacoli all'interno della città per coinvolgere tutti i genovesi in questo palo ci sarebbe piaciuto poter ospitarli tutti a bordo non era possibile però l'idea è stata proprio questa e poi il varo a bordo della nave che verrà degli ospiti internazionali di assoluto rilievo la nostra madrina storica la Sofia Loren simbolo di italianità quindi ben si sposa con i valori che la nostra azienda esprime a livello italiano ma a livello internazionale e poi il maestro Morricone che ha consentito a che il suo concerto venga messo in diretta anche al Porto Antico dove quindi i genovesi potranno assistere vivere questo varo insieme a tutti quanti noi e infine Gino Paoli un omaggio a Genova e un onore per noi di MSC averlo apporto quindi un evento che vuole coinvolgere la città ma come dicevo vuole essere un punto di arrivo dopo otto anni ma di partenza pensando al futuro perché crediamo che le crociere e Genova abbiano ancora un lungo cammino rigoglioso in termini di risultati per entrambi da fare assieme nel prossimo futuro grazie quindi giusto per puntualizzare il social game inizierà questa sera alle 19.30 fino alle 23 e quindi sia le 15 che il 16 marzo anche domani si tratta di un gioco interattivo che sarà fatto a Piazza dei Ferrari quindi coinvolgendo tutti i cittadini di Genova e dove sarà possibile vincere sia una crociera oppure proprio di partecipare personalmente al Varo l'altra notizia che già aveva l'altro Leonardo Massa e che quindi sarà la sera del Varo sarà proiettato su tre maxispermi nel Porto Antico sul Palazzo di Interi tutta la diretta di quello che avviene nel Varo e ci saranno poi alle stranze che faranno quindi dei commenti o interterranno il pubblico tra le cose principali che sono state fatte per la città e un'altra notizia appunto che era di servizio era quella che la soprallamata sarà chiusa dal 19 al 22 in proprio prossimità del Varo voglio innanzitutto ringraziare l'assessore Carla Sibilla che è qui presente con noi in prima fila e anche Luca Valentini aere manager nord-ovest che avete visto prima a fare un'intervista ora lascerei la parola a qualche collega se vuole fare qualche domanda di approfondimento se no ci possiamo salutare perfetto grazie a tutti ho trovato il cartellino poi tutti i vari momenti mi si trattano durante la settimana scusate nei ringraziamenti di MSC abbiamo dimenticato il collega Maurizio Salve ha dimenticato due persone innanzitutto Carla Rotta che povera è quella che si prende carico dei 950.000 passeggeri che muoverebbe e poi Daniela Vicco che ha collaborato attivamente alla realizzazione di tutto ciò grazie anche a voi grazie e lo scudo grazie a tutti